Ciao a tutti, da salutatore e di tutti i salutatori, vi invitiamo dal 14 dicembre a vedere Natale da sempre! Con me e c'è pure lui, ecco magari, ecco, mi piacerebbe, io vengo a vedervi, vieni a vederci, magari posso uscire i palettori, ma togliamo la curiosità, ma la barba da pagamo tu zappa? Camo tu zappa, ecco, una sorpresa per te, ecco, ieri qui abbiamo anche il cappello per fare gli auguri di Buon Natale, ecco, abbiamo attrezzato, ecco, lo mettevo tipo sciarpa, auguri, Buon Natale, siate felici e che i vostri sogni si possano realizzare, bye bye! Grande Enzo, Buon Natale, ciao!